Capitolo 5 La cena del primo giorno era sempre identica. Una grossa pentola di bouillabaisse piccante che Susanna cucinava mentre attendeva il nostro arrivo. Un sacco di chele di gamberi e granchi e calamari. Susanna sapeva quanto andassi matta per i calamari. Quando ero piccola lasciavo da parte i calamari per mangiarli per ultimi. Susanna metteva la pentola al centro del tavolo assieme a qualche fetta di pane francese comprato alla vicina panetteria. Ciascuno di noi prendeva una scodella e si serviva da solo durante tutta la cena immergendo il mestolo nella pentola. Susanna e mia madre bevevano sempre del vino mentre noi bambini bevevamo aranciata. Quella sera però c'erano i bicchieri da vino per tutti quanti. Ormai siamo tutti abbastanza adulti da poterlo fare. Tu che dici lo? Disse Susanna mentre ci sedevamo. Non lo so, rispose lei, ma poi si interruppe. Oh d'accordo, va bene. Sono troppo arretrata, non è vero Beck? Susanna rise e stappò la bottiglia. Tu? Quando mai? Replicò versando un po' di vino a tutti noi. Questa è una serata speciale. È la prima sera d'estate. Corrad beve il suo vino in due sorsi. Lo beve come se fosse abituato a farlo. Pensai a quante cose potevano cambiare da un anno all'altro. Disse... Questa non è la prima sera d'estate, mamma. Sì che lo è. L'estate inizia solo con l'arrivo dei nostri amici, rispose lei, allungando la mano verso la mia e quella di Conrad. Lui la ritrasse in maniera quasi casuale. Susanna non parve notarlo, ma io sì. Io notavo sempre Conrad. Anche Jeremiah doveva essersene accorto, perché cambiò argomento. «Belly, guarda la mia ultima cicatrice!» disse tirandosi sulla maglietta. «Quella sera ho segnato tre field goal!» Jeremiah giocava a football ed era orgoglioso di tutte le sue cicatrici di guerra. Mi sporsi verso di lui e osservai bene. Era una lunga cicatrice che stava giusto iniziando a scomparire proprio in fondo alla pancia. Era evidente che Jeremiah aveva fatto palestra. Aveva l'addome piatto e teso, diverso dall'estate passata. Adesso era più grosso del fratello. «Wow!» esclamai. Conrad sbuffò. «Geremiah vuole soltanto mostrare la sua tartaruga», disse, spezzando un pezzo di pane e intingendolo nella sua scodella. «Perché non la mostri a tutti e non solo a Belli?» «Sì, faccela vedere, Jeremiah!» aggiunse Stephen, sorridendo. Jeremiah ricambiò il sorriso e a Conrad rispose, «Tu sei soltanto invidioso perché hai smesso di giocare». Conrad aveva smesso di giocare a football. Non lo sapevo. «Conrad, hai smesso davvero?» gli chiese Stephen. Neppure lui ne sapeva nulla. Conrad era bravissimo. Susanna ci inviava e-mail con ritagli di giornale su di lui. Aveva giocato nella stessa squadra di Jeremiah negli ultimi due anni, ma la stella era Conrad. Conrad si strinse nelle spalle. Aveva ancora i capelli bagnati dal tuffo in piscina, come me. Mi ero stufato, rispose. Intendeva dire che erano gli altri essersi stufati di lui, obiettò Jeremiah. Poi si alzò e sollevò la maglietta. Niente male, eh? Susanna inclinò la testa all'indietro e rise, e mia madre fece altrettanto. «Siediti, Jeremiah!» disse, brandendo una fetta di pane contro di lui, come fosse una spada. «Tu che ne pensi, Belli?» mi chiese Jeremiah. Pareva ammiccare, sebbene non lo stesse facendo. «Niente male!» risposi, cercando di non sorridere. «Adesso tocca a Belli mettersi in mostra!» aggiunse Conrad, con tono beffardo. «Belli non ha bisogno di mettersi in mostra. Basta guardarla per capire quanto è bella!» replicò Susanna, sorseggiando il vino e sorridendomi. «Bella? Come no!» disse Stephen. «Una bella rottura di palle!» «Steven!» lo ammonì mia madre. «Che c'è? Cosa ho detto?» domandò lui. «Steven è troppo rozzo per capire cosa sia la bellezza!» mormorai dolcemente. Spinsi il pane verso di lui. «Pensa a mangiare, che è meglio!» «Pensa per te!» rispose lui, staccandone un pezzetto. «Belli, parlaci delle amiche sexy con cui mi combinerai un incontro!» disse Jeremiah. «Non ci avevamo già provato una volta?» risposi io. «Non dirmi che ti sei già dimenticato di Taylor Jewel!» Tutti scoppiarono a ridere, perfino Conrad. Jeremiah Rossi, ma anche lui stava ridendo. «Che gentile che sei, Belli!» disse scuotendo il capo. «Ci sono un sacco di ragazzi carini al country club, perciò non preoccuparti per me! Preoccupati di Conrad! È lui essersi lasciato scappare l'occasione!» Il piano originario era che entrambi i fratelli andassero a lavorare al country club come bagnini. Conrad lo aveva già fatto l'anno precedente. Questa estate Jeremiah era abbastanza grande da farlo assieme a lui. Ma Conrad aveva cambiato idea all'ultimo minuto e aveva scelto di fare l'aiuto cameriere al bar-ristorante specializzato in frutti di mare. Ci andavamo spessissimo. I ragazzini dai 12 anni in giù avevano un menù scontato. Un tempo io ero l'unica ad avere quell'età. Mia madre non mancava mai di riferire al cameriere che avevo meno di 12 anni. Lo faceva sempre e ogni volta volevo scomparire. Desideravo essere invisibile. Non che i ragazzi ci dessero molto peso, anche se avrebbero tranquillamente potuto farlo. Quello che odiavo era sentirmi diversa, estranea. Odiavo distinguermi dagli altri. Io volevo essere uguale a loro.